L'invio di truppe occidentali in Ucraina, almeno per il momento, resta un tabù. La fuga in avanti di Macron, che ha posto il tema al vertice di Parigi sugli aiuti a Kiev, è stata fermata su un nascere dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea e da diversi stati membri, fra cui l'Italia e la Germania. Parigi poi ha corretto il tiro, chiarendo che i militari europei sul terreno non sarebbero belligeranti, ma il Cremlino ha colto comunque l'occasione per mostrare i muscoli. Nel nuovo scenario, evocato dall'Eliseo, un conflitto diretto con la NATO sarebbe inevitabile. Comprensibilmente positivi al contrario commenti di Kiev, dove l'apertura francese viene considerata un buon segnale. Dopo aver disertato la riunione dei G7, presieduta da Meloni a Kiev, Macron si è ripreso alla scena riunendo a Parigi gli alleati per rilanciare il sostegno all'Ucraina al terzo anno di guerra. Il presidente francese ha annunciato la nascita di una coalizione per fornire missili e bombe di media e lunga gittata a Kiev, ma si è spinto anche oltre, affermando che per impedire la vittoria della Russia non deve essere più escluso in futuro l'invio di soldati occidentali. Macron inoltre ha spiegato che non c'è consenso sulle truppe di terra in via ufficiale, come a voler dire che il tema sarebbe comunque oggetto di riflessione fra gli alleati.